Questo è il momento in cui lei ha bisogno di essere curata, protetta, assistita. Ma nel tempo qualcuno lo rende un processo discriminatorio. Siamo nati da questo. Se è impuro, la nostra stessa nascita è impura e la creazione è impura. Ora questo. Hai fatto una dichiarazione molto radicale. Un pregiudizio dalla dimensione spirituale. Voglio che tu capisca. Spiritualmente non c'è alcuna menzione di cicli mestruali da nessuna parte perché spiritualmente non puoi avere cicli mestruali. Solo fisiologicamente li puoi avere, ok? Quindi è un problema fisiologico che si riflette in quanto fattore psicologico in un certo segmento di donne, non direi tutte. Ma un segmento piuttosto consistente di donne trova un riflesso del proprio processo fisiologico nella propria costruzione psicologica. Ed è un fatto di cui ci si deve occupare. Questo viene detto solo perché alcuni templi e altre cose dicevano che le donne non potevano entrare in quel periodo. devi capire questo, da dove viene questo. La donna di oggi, dimenticati di lei, ok? Come è equipaggiata, come è in grado di gestire i suoi bisogni, i corporei e altre cose. Sono una questione diversa. Voglio che tu guardi indietro a mille anni fa. Che tipo di servizi igienici aveva? Che tipo di processi aveva? Quindi ci potevano essere problemi al riguardo. Non è vero? È solo per questo motivo che lo dicevano. E soprattutto devi capire che il livello di attività fisica di una donna normale in quei tempi, cucinare per 15-20 persone, prendersi cura delle mucche, prendersi cura dei bambini, è tutto suo. È un'enorme quantità di attività fisica. Quindi la donna che sta attraversando un certo processo del suo ciclo ha tre giorni, quattro giorni di pausa, dà tutto. Non è una cosa meravigliosa? Perché questo è un momento che è quasi come un periodo di muta per una donna. Ad un livello non importante come una muta, ma è quasi così. Questo è il momento in cui lei ha bisogno di essere curata, protetta, assistita, qualcun altro cucina per lei, cosa che non accade mai nella sua vita. Ogni giorno cucina, per quei tre-quattro giorni qualcun altro cucina per lei, qualcun altro le serve il cibo. Lei siede da sola, medita, canta, prega. Non è questo un buon modo per fare le cose, chiedo? Non considerarlo come la vita di oggi. Guarda indietro a mille anni fa, quando queste cose venivano fatte, era un ottimo modo per proteggere le nostre donne. Ma nel tempo qualcuno lo rende un processo discriminatorio. Una donna non dovrebbe venire qui, non dovrebbe venire lì. È solo per ignoranza che certe cose accadono. Non ha nulla a che fare con il mondo spirituale, perché se mia madre non avesse avuto cicli mestruali, non sarei nato. Ok? Sì o no? Siamo nati da questo. Se è impuro, la nostra stessa nascita è impura e la creazione è impura. È un pensiero ridicolo anche solo pensare così. Non è a causa della purezza e dell'impurità che questo è giunto. È giunto per ragioni pratiche. Ancora oggi incontro migliaia di donne che soffrono molto in quel momento, perché devono ancora andare a lavoro, devono ancora occuparsi di tutto. Ci sono molte di loro che assumono dei farmaci in quel momento solo per mantenere il proprio equilibrio psicologico. Decisamente apprezzerebbero del riposo, decisamente apprezzerebbero un po' di isolamento da tutto ciò che stanno facendo. Ma pensare è puro o impuro? La domanda giunge in una mente molto rudimentale. Non c'è buonsenso. Buonsenso fondamentale sulla vita.